la fuori è ovvio che c'è ci sono maglie bianche in meno no Sabatini Sabatini così in comprensione poi però il Cuso riesce a tenere la palla in mano poi però chi la dà commette in frazioni di passi e quella palla va servita e va scaricata e invece Grazie a tutti